Il Covid-19 ha fermato anche la macchina del pallone, c'è chi vuole ripartire e chi vuole terminare la stagione qui. Nei giorni scorsi il presidente della Lega Nazionale di Lettanti, Cosimo Sibilia, ha dichiarato di voler continuare a giocare perché le retrocessioni e promozioni non possono essere decise a tavolino. Ipotizzando una ripartenza, il Gionei, quello che vede convolto il San Tommaso, potrebbe ricominciare il 16 maggio, anche se non tutte le squadre sono pronte a rimettersi in gioco. Infatti il Ragusa, imbischiato con i grifoni nella lotta alla salvezza, non vuole giocare più. Mentre il Palermo, subito dopo l'emergenza, ha dichiarato di voler continuare a scendere in campo. Stessa cosa per ACR Messina e FC Messina, che vogliono proseguire la stagione. Vedremo cosa accadrà e se la categoria che rischia il prossimo anno di perdere diversi club ripartirà. Il San Tommaso è alla finestra, anzi, il tecnico da Stefano ha fatto una proposta. Qualora la stagione dovesse finire qui, con 8 punti di vantaggio in testa e in cuda, il Palermo potrebbe essere promosso e la Palmese retrocessa.